Pubblicò foto private di Bianca Balti, assolto l'ex marito Cristian Lucidi secondo il giudice monocratico di Roma Il fatto non sussiste Cristian Lucidi, ex marito della top model Bianca Balti, è stato assolto dal giudice monocratico di Roma dall'accusa di aver violato la privacy della modella Nei confronti dell'uomo, fotografo professionista, la procura contestava l'avere pubblicato su internet alcuni scatti privati della Balti Accuse che però la stessa modella lodigiana aveva ritirato Il giudice ha assolto l'imputato con la formula, perché il fatto non sussiste Le foto, tra le quali due di, erano state in un primo momento pubblicate sul sito personale del fotografo e poi rimosse, ma erano ricomparse su un sito non riconducibile all'impiutato Leggi, Bianca Balti, matrimonio con Matthew McRae finito, l'indizio su Instagram Leggi, Bianca Balti, matrimonio con Matthew McRae finito, l'indizio su Instagram